Un gruppo di amici me l'ha chiesto, dopo quattro anni in consiglio comunale, nel 2012 ero stato eletto con 225 preferenze, hanno deciso di credere in me per tentare di portare il cambiamento che serve a cittadella dopo 22 anni, 23 anni di amministrazione leghista. Il centro-sinistra scende in campo unito e sceglie il giovane Adamo Zambon, segretario cittadino del Partito Democratico, sostenuto anche da due civiche, Cittadella Futura e Liberamente, 31 anni, manager, non è nuovo alla politica, attualmente è consigliere d'opposizione e spera con il suo programma di portare una svolta per il suo comune. Un punto fortissimo sull'unione dei comuni, era un punto che avevamo già nel programma del 2012 e anche i nostri alleati, che quattro anni fa corsero separatamente da noi, hanno trovato su questo punto una colonna fondamentale del nostro programma. Unione dei comuni che serve per liberare risorse dall'unificazione degli uffici comunali, serve per portare a casa fondi europei, fondi statali, fondi regionali. Ecco qual è la prima cosa che farà qualora venisse eletto sindaco. Dimezzare l'indennità di sindaco e giunta per liberare più di 50.000 euro da destinare alle famiglie di Cittadellesi in difficoltà.